Il mio recital di violino alla Symphony Hall sarà l'undici di marzo. Suonerò musiche dei più grandi compositori e violinisti viennesi ed italiani, come ad esempio la sonata del Trio del Diavolo di Tartini o l'Ave Maria di Schubert. Suonerò anche i brani con l'organo. Spero potrete godere della bellezza e della drammaticità della nostra musica europea. Minna-san no go raisho o machi shiteimasu.